questa volta rispondiamo a una delle più frequenti domande che ricevono i vari box che sarebbe la contraccezione mentre state allatando ricordiamo che finché voi state allatando perfino se lo state facendo in modo esclusivo si riduce la possibilità di una ovulazione e di conseguenza in seguito anche del ciclo mestruale tanto è vero che il ciclo mestruale potrebbe arrivare anche dopo due mesi ma anche dopo 18 o 20 mesi quello che non potete prevedere, che non possiamo prevedere è quando ci sarà questa ovulazione e il ritorno del ciclo perfino se state facendo un allatamento esclusivo questo è il motivo per cui se volete più sicurezza sul fatto della contraccezione cioè di non avere una gravidanza e se volete dovreste prendere delle precauzioni precauzioni vuol dire che o usate un preservativo così non avete nessun ormone che interferisse niente in assoluto o esistono gli ormoni i progestinici per cui che non c'entrano nulla con le comuni pillole ma per cui la mini pillola o la spirale ormonale o l'impianto sottocutaneo che avendo il progestinico non interferiscono con l'allatamento per cui sono compatibili con l'allatamento quest'ultimo metodo per cui il metodo ormonale garantisce una sicurezza del 99,9% per cui in abbinamento anche all'allatamento avete la minima possibilità di una gravidanza grazie a tutti grazie a tutti